A Garbatella, per la precisione in via Alessandro Cialdi 35, pensate che ha aperto un nuovo ristorante che si chiama One Sense. Grazie alla volontà di una bravissima ragazza di nome Valeria, di 29 anni d'età, appassionata di equitazione, innamorata dell'arte, ha voluto, diciamo così, creare un ambiente piacevole, sofisticato, tra virgolette glamour, quindi molto, molto interessante da vivere, a 360 gradi, con attenzioni riservate alle persone che purtroppo non possono udire, non possono ascoltare i suoni e i rumori in quanto sorde. Ma non è assolutamente un locale, diciamo così, per sordi, ma è un locale progettato per integrare quelle che sono persone sorde tra persone che invece ci sentono, per udenti. Un menu che va a, diciamo così, diffondersi, va a dipararsi attraverso l'impiego di materie prime che provengono da aziende più che solide, più che piacevoli, più che garantiste, di qualità eccellente. Per la maggior parte parliamo di materie prime di tipo biologico, quindi sono prodotti della terra che vengono direttamente messi dalla terra al piatto seguendo delle linee giuste e precise. Passiamo dunque a passare, tra virgolette, in rassegna a questo locale, il locale si presenta bene, abbiamo addirittura la presenza di divanetti, luci che danno al luogo una perfetta, chiamiamola solidità, luci che si attestano nel, diciamo così, illuminare in maniera completa, totale e non parziale, un ambiente che di per sé non può assolutamente sfuggire a chi ha voglia, a chi ha la volontà di apprezzare le qualità cibarie che la natura offre a noi, esseri umani. Complimenti dunque all'idea di aver creato un locale come questo, che nasce, vi ricordo, perché in loco c'era anticamente un, diciamo così, locale per riparare dispositivi della LG. Poi è passato a questa ragazza che ha deciso di creare in loco invece un ristorante in piena regola. Che dire, andare sicuramente per degustare piatti eccellenti dalla qualità elevata e soprattutto capaci di sorprendere in maniera completa. Un saluto caro, il video termina qua, al prossimo da Narratore Italiano.